Da lunedì 24 ottobre il centro storico di Pesaro cercherà di risultare più pulito, più profumato e più evoluto. In che modo? Da quel giorno partiranno ufficialmente sei mesi di sperimentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata, con il posizionamento di nuovi cassonetti intelligenti in diverse aree del centro. I residenti coinvolti in questa diversa pratica di smaltimento dei propri rifiuti disporranno di una carta asmeraldo, due per ogni famiglia e che verrà consegnata loro nei prossimi giorni. La carta asmeraldo sarà l'unico elemento indispensabile per poter conferire il rifiuto nell'apposito contenitore e che permetterà dunque solamente ai residenti di poter utilizzare i cassonetti. Un cambio di passo importante è arrivato da un accordo siglato tra l'azienda che opera nei servizi di pubblica utilità, ovvero Marche Multiservizi, e il Comune di Pesaro. In accordo hanno pensato di programmare tre incontri con gli abitanti del centro storico per illustrare la nuova modalità di raccolta differenziata. Stiamo partendo con la raccolta di prossimità e non più con il portaporte in una parte di centro storico. Nel settore A abbiamo diviso la ZTL in quattro settori, A, B, C e D, individuando 24 nuovi punti di raccolta. Questa prima operazione parte sulla zona A, sono sei punti di raccolta che permetteranno ai cittadini di conferire i loro rifiuti in questi contenitori, che sono oggetti oggettivamente carini, sono contenitori d'arredo che sono già stati sperimentati in altre città con un buon successo. Ovviamente l'aspetto positivo è che non avremo più i sacchetti in giro per la strada, compatibilmente con l'educazione dei singoli, perché noi parliamo sempre di massimi sistemi, però è sempre il singolo che fa la differenza. Un altro problema è che in una zona già sofferente come la ZTL andremo a togliere alcuni posti auto, ci siamo attrezzati e abbiamo già individuato altre aree sostitutive, con aree cialde riservate appunto a chi abita, a chi ha l'auto in ZTL, quindi un'operazione complessa sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico, che richiede però grande collaborazione da parte dei cittadini, perché alla fine è il singolo che fa la differenza. Abbiamo un modello di prossimità dove invece di avere un calendario con i giorni e con degli orari predefiniti, si potrà avere la possibilità di accedere alle nuove isole ecologiche informatizzate 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Quello dei cassonetti intelligenti è anche un invito ai cittadini a seguire la buona pratica della raccolta differenziata e Marche Multiservizi ha pensato di fare in questo modo. Costruire un sistema virtuoso per premiare chi si comporta bene, quindi daremo nelle prossime assemblee di identificazione per il kit per le tessere esmeraldo, ha anche la possibilità di una serie di adesivi che sono riconoscibili all'utenza, con i quali su base volontaria chiunque potrà segnalare il proprio sacchettino dell'indifferenziato per far vedere che ha fatto bene la sua raccolta differenziata e indifferenziata. Ogni 15 giorni saranno premiati 5 cittadini virtuosi, con un buono spesa di 30 euro, che è un segnale positivo per continuare su questa strada della correttezza nella raccolta differenziata. È un progetto importante e strategico che abbiamo impostato, concentrando tutti i dettagli, è un investimento che richiede, dal punto di vista economico e finanziario, ma anche organizzativo, un impegno che crediamo di aver messo al meglio, per cui questo ovviamente, ci teniamo a ribadirlo, non è un passo indietro nel processo di economia circolare, quindi il passaggio dal porta a porta a questa modalità è tutt'altro, quindi è un avanzamento in termini di qualità della materia raccolta, però ovviamente è fondamentale la collaborazione dei cittadini.